Un salto indietro nel tempo fino a fine Ottocento, primi del Novecento. E' questo memoria del passato, tornato a Lucignano dopo due anni. Per noi questa è una manifestazione importantissima, una revocazione che ci riporta ai primi del Novecento, quindi alle nostre radici, alla nostra storia e poter rivedere nel nostro borgo i vecchi mestieri, i vecchi balli, i sapori di una volta e gli odori di una volta. Un'esperienza magnifica, credo, per i lucignanesi, per i bimbi e soprattutto per quelli che visiteranno Lucignano in questa giornata stupenda che ci porta indietro nel tempo. Passeggiando nei vicoli del Centro Storico si va alla scoperta di numerosi mestieri che stanno sparendo. Oggi abbiamo questa opportunità di rivedere queste belle botteghe riaperte dal Fabbro, dal Palegname, dall'intarziatore, il cesellatore, le ricamatrici ovviamente e poi ci sono tutte le botteghe delle osterie, le vecchie osterie che anche quella è una cosa molto particolare da ritrovare in questi posti. Ecco cosa possono realizzare mani sapienti. Sto realizzando un cesto, questo che sto usando adesso è il Salici del Fiume, però ogni colore è una pianta. Per che cosa viene utilizzato? Quello che vuole, per la frutta.